Deve solamente riprendere tutto, è già ripreso, non deve prendere nulla, è già fatto. Tutti quanti, no contro la violenza delle donne, addio via. Ciao a tutti da Cristian Ticenza, il votore del blog, diciamo da Piazza di Spagna, il giorno di San Valentino, contro la violenza, diciamo tutti no! Cristian Ticenza, il votore del blog, Piazza di Spagna, contro la violenza delle donne. Grazie a Ticenza, grazie, gentilissima.